Nel bollettino giornaliero diramato dall'assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo salgono a 3.570 i casi di positività al Covid-19 registrati dall'inizio dell'emergenza. Infatti rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi, uno dei quali trasferito dalla Regione Lazio e riferito al Giovani di Pescara trovato positivo ieri al test eseguito all'aeroporto di Fiumicino, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2840 dimessi guariti, più 2 rispetto a ieri. Ad oggi gli attualmente positivi in Abruzzo sono 258, con un incremento di 3 unità rispetto a ieri. 27 pazienti, numero che resta invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, così come per la terapia intensiva che conta al momento un solo ricoverato, mentre gli altri 230 più 3 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Del totale dei casi positivi, 305 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 886 in provincia di Chieti, 1654 in provincia di Pescara, più 1 rispetto a ieri, 696 in provincia di Teramo, più 4 rispetto a ieri, 28 si trovano fuori Regione e 1 per il quale sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 141.741 test.